Ricordati che non la stai disturbando se fai le cose fatte bene, un'altra paranoia mentale di tantissimi uomini e vado lì e la sto disturbando, ok? Quindi quello è anche un problema di autostima, perché immaginatela al contrario, che tu sei con un tuo amico seduto in un bar che state parlando, non lo so, che ti hanno appena promosso a lavoro e ti hanno affidato un progetto importantissimo, non so, sei un architetto e devi progettare il nuovo grattacielo più importante di Milano, ok? Quindi è una roba enorme, un progetto iper importante, sei con un altro tuo amico, collega che ne state parlando al bar e arriva la tua attrice, cantante preferita, la più figa che hai in questo momento in testa, a livello di VIP, ok? Quindi immaginatela, ti viene a parlare, ti fa tap tap sulla spalla, che è sbagliato da fare tu da uomo con una ragazza, e ti dice scusatemi se vi disturbo, però tu sei veramente molto bello, ti va se andiamo a casa mia? Niente scenario realistico, però semplicemente per farti capire che tu cos'è che fai? Dici, ah, sto progettando il grattacielo più importante di Milano, di base sei la tua cantante, attrice preferita, la tua donna ideale, contro quello che tu pensi sia tua donna ideale, di base una scopata una sera te la fai, ok? Non rovinerai il progetto del grattacielo più importante di Milano e queste cose qua. Ma perché? Perché lei ha i tuoi occhi a valore, ok? Quindi non ti sta disturbando se porta valore. Stesso principio, si applica al contrario, tu non disturbi una ragazza se porti valore. Sei stufo di non riuscire a parlare con le ragazze che ti piacciono per colpa dell'ansia e approccio? Ti garantisco che in una sola giornata possiamo rimuoverti quest'ansia per sempre, grazie al supporto dal vivo di un nostro coach esperto, altrimenti ricevi soldi indietro. Solo 10 posti disponibili e le iscrizioni chiudono il 30 gennaio. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni e per vedere quanti posti sono ancora rimasti. Ok? Lo vedremo poi più avanti in questo corso, se agisci in maniera sicura, se porti divertimento, se agisci in maniera non bisognosa, se dimostri l'intelligenza sociale, tutte cose che portano a un valore. Quindi non la stai disturbando, le ragazze non vedono l'ora di conoscere qualcuno che non sia un disagiato. Quindi le stai facendo vivere un'esperienza positiva, ok? Ti faccio un esempio con la ragazza con cui sono attualmente in una relazione e ci sono state alcune volte, io me li salvo anche questi messaggi qualche volta che mi manda, adesso non li mettiamo qua in questo corso, dovrei andare a cercarli. Però per esempio mi ricordo che per l'anniversario di un anno, che siamo insieme, le ho mandato un messaggio e le mi ha detto poi anche grazie per non aver mollato, o quando magari facevo molto la difficile, e tutte queste varie cose qua, ok? Quindi come questo, te ne potrei farvi vedere, adesso non lo mettiamo qua in sovraimpressione come screenshot, però ce ne sono tantissimi di altri screenshot che mi risalvo, perché sono dei messaggi bellissimi da parte delle ragazze, che non è che ho bisogno di saperlo, però sono dei messaggi belli che mi fanno ricordare il fatto che le ragazze vivono delle esperienze iperpositive con un uomo che è veramente capace. E poi la cosa che accennavo un attimo fa è che è una fantasia segreta delle donne, in realtà la conoscenza di giorno soprattutto, quindi qua non sto parlando di approccio in discoteca, l'approccio di giorno è una fantasia segreta delle donne, perché lo vedono nei film, ok? E le ragazze sogno di vivere la vita che vedono nei film, ok? Mi ricordo una volta una ragazza che stava piovendo, la voce ha baciata prima, però stava piovendo e voleva fare il bacio sotto la pioggia come lo vede nei film, ok? Quindi, scusate, soltanto un esempio. La conoscenza di giorno di base in quasi tutti i film ci sono delle storie d'amore e tantissime volte la conoscenza fra i due che hanno la storia d'amore nel film molto spesso sono situazioni di conoscenze casuali di giorno, ok? Non da discoteca, ci sono poi le situazioni in cui nel film si conoscono tramite situazioni in comune di amici, amiche, cerche sociale, però in tante situazioni, in tanti film, facci caso, sono proprio situazioni di giorno, ok? Dove magari, non so, mi viene in mente un film dove si scontravano in bici per caso e poi si conoscevano tramite questo, non so, lei che entrava in una libreria e lui era quello che lavorava lì nella libreria, che in mente così non ti dicono anche i titoli, oppure non lo so, i due che si scontrano fuori dall'università e che cadono i libri e lui aiuta lei a raccogliere libri, poi si guardano, amore a prima vista, che nella vita reale non esistono, non c'è lo sguardo, l'amore a prima vista, però c'è la conoscenza di giorno, ok? Quindi le ragazze vedono tante volte dai film questa conoscenza casuale di giorno e le ragazze sognano effettivamente di conoscere una persona tramite gli approcci di giorno, ok? Lo vedono come il destino, ok? Tu ci puoi anche giocare con questa cosa, il fatto di dirgli, se capita a volte, se contestuale durante la conversazione puoi dirgli, magari ci siamo incontrati per via del destino, ok? E ad alcune ragazze piace viversi questa, non so dire, questa narrativa nella loro testa. Quindi, invece per quanto riguarda la discoteca, le ragazze vanno appositamente in discoteca per conoscere nuovi ragazzi, cioè secondo te spendono dalle 2 alle 5 ore, se non anche tutto quanto il giorno per prepararsi, per il trucco, andare dall'estetista, le unghie, soffrono con i tacchi alti 12 cm, il vestito, si depilano anche, non lo so, magari devono guidare anche, fanno il meeting con le amiche tramite il gruppo Whatsapp, che si inviano il vestito, si vestono, poi inviano la foto di come sono vestite alle loro amiche per chiedere come stanno, poi se non stanno bene si ricambiano, quindi di base quando riescono a far serata in discoteca c'è tutta quanta una coreografia che dura dalle 2 alle 5 ore e in certi casi anche dura tutto quanto il giorno, ok? Dalla mattina fino a quando poi si esce la sera tardi e secondo te fanno tutta questa roba qualcosa di, per divertimento, così per giocare, per perdere tempo, o poi lo fanno per le loro amiche e ragazze, per impressionare le loro amiche e ragazze? No, lo fanno perché sperano che quella sera conosceranno qualcuno di cui ne vale la pena che le farà godere quella sera. E invece chi trovano, trovano i disagiati, gente ubriaca, che magari le vomita anche addosso in discoteca, che l'approccia in maniera super molesta. Quindi fai un favore alle ragazze, impara come si fa con le donne e fai vivere esperienze positive alle donne, lascia stare, ti freni della paura, del giudizio di altri, nessuno ti giudica, le ragazze escono appositamente per conoscere uomini, chiaramente ripeto, si approcci in maniera un minimo corretta. Sei stufo di non riuscire a parlare con le ragazze che ti piacciono per colpa dell'ansia d'approccio? Ti garantisco che in una sola giornata possiamo rimuoverti quest'ansia per sempre grazie al supporto dal vivo di un nostro coach esperto, altrimenti ricevi soldi indietro. Sono 10 posti disponibili e le iscrizioni chiudono il 30 gennaio. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni e per vedere quanti posti sono ancora rimasti.